la luce di lecci stava qui al cancello del re come avete visto dai dall'ultima l'ha finito il DLC precedente quindi ora ci mancano in teoria 3 boss e una corona e poi abbiamo praticamente concluso tutto ciò che possiamo fare fondamentalmente ah il cancello del re è qui mi sembra odio il naso palesemente è primo è anche unico lefi ben tornato mi dispiace sono ancora su questo gioco che non ti piace allora il cancello del re dovrebbe essere ecco infatti eccoci qui al terzo DLC vediamo un po' terzo e ultimo terzo e ultimo ah è troppo bello veramente una delle cose più belle oddio minchia se è bianco ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo e tutto sto posto ci metterò un po' è tutto sto posto ci metterò un po' tesoro più avanti, ne dubito fortemente, qui ho un occhio, tutto sto silenzio, non puoi usare il falò, perchè non posso, no non credo, mamma io devo proseguire, non mi frega niente di quello che dici tu creatura del gel, è Leon Joyce congelata, beh non credo conoscevo nemmeno la versione normale, destra o sinistra, Space Titan è un giocatore, sono sicuro di cos'è questa cosa, e questo è un giocatore, non si fai lì, 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 non mi torna, non ti fai lì, non si fai lì, di nuovo il giocatore,